Siamo stati liberati un po' dopo il secondo gol perché sappiamo già prima che sarà una partita molto difficile. Loro hanno obiettivi di rimanere in Serie A. Una vittoria importantissima. Bisogna adesso riposare e mettere a testa la prossima partita alla Lazio e fare un buon risultato lì. Però avete chiuso un otto giorni, insomma niente male, tre partite, tre vittorie, una qualificazione alla finale di Coppa Italia e poi due successi pesanti in campionato a Napoli. Altrettanto pesante questo con l'Udinese perché squadra venuta a Bergamo per fare punti per la salvezza. Sì, una settimana molto dura però molto bella. Abbiamo vinto tutti e tre partite. Devo dire anche che l'altra sera ma stasera anche perché c'era un ambiente spettacolare. Devo ringraziare i tifosi. Adesso bisogna rimanere insieme e fare i nostri obiettivi. Mario, mancano cinque partite per chiudere la stagione 18-19. Quattro di campionato e una di Coppa Italia. Bisogna racimolare, prendere tutte le forze per questo rush finale. Sì, adesso abbiamo tempo di riposare bene e pensare alle prossime partite. Siamo messi molto bene. Siamo a finale Coppa Italia, siamo quarti al campionato da soli. Quindi tutto dipende da noi e bisogna mettere tutte le forze che abbiamo da finire una bella stagione.